Fra i primi a votare stamattina è stato il Presidente Tony Matarrelli, che probabilmente ha voluto dare un esempio in termini di partecipazione alle operazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi. Come è noto, non si vota per eleggere il Presidente, che resterà in carica fino al 2026. Si tratta invece di sapere quali saranno i 12 consiglieri che lo affiancheranno alla guida di un ente che continua ad avere la sua importanza e che soprattutto potrebbe rivedere a breve la partecipazione diretta dei cittadini anche nella fase elettiva, che invece adesso è limitata ai soli consiglieri comunali di tutti i comuni della provincia. Il corpo elettorale, pertanto, è formato da 356 consiglieri, di cui 78 appartengono a comuni fino a 10.000 abitanti, 170 fino a 30.000 abitanti e 108 fino a 100.000. Ovviamente il voto di un consigliere comunale di un comune più grande ha un peso maggiore e quindi è assai difficile fare previsioni. Va detto però che nelle liste, una composta dalle forze politiche di centrodestra, un'altra dalle civiche vicine al Presidente Matarrelli ed una espressione di PD, Movimento 5 Stelle e socialisti, ci sono anche i sindaci in carica, così come personaggi politici che nei propri comuni adesso si trovano sui banchi del Consiglio e che proprio con l'elezione alla provincia vorrebbero riconquistare postazioni di maggiore visibilità. Adesso, pertanto, non resta altro che attendere l'esito delle urne, dopodiché è assai probabile che il Presidente Matarrelli, al di là dello schieramento di partenza, prove a coinvolgere sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione nella guida dell'ente, tanto più perché ci sono settori che richiedono un impegno che va ben oltre la disponibilità di tempo di un Presidente.